Nell'anomalia tutta italiana di farsi sopraffare dal campanilismo becero anche per il posizionamento di uno spillo, per le grandi questioni che possono diventare opportunità a farne le spese, poi è sempre il territorio inteso come comunità nella sua interezza. Sono le affermazioni del segretario provinciale di Confartigianato Mostaccioli. E così si perde tempo, si indebolisce il tessuto sociale ed economico che avrebbe quanto mai bisogno di una compattezza istituzionale ed una autorevolezza capace di difendere scelte e opportunità come sarebbe stata la sede della direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane a Catanzaro che invece resta a Reggio Calabria. Il segretario provinciale di Confartigianato Raffaele Mostaccioli che non nasconde l'amarezza per la decisione della direzione centrale di rimodulare il regolamento di amministrazione che definisce gli assetti organizzativi centrali e regionali e confermare la sede nella città dello stretto. A prendere la decisione dell'ubicazione a Reggio è la direzione centrale dell'Agenzia, lo stesso organismo che aveva deciso che per una volta in Calabria si potesse applicare il principio di ragionevolezza che governa i processi altrove, vale a dire che la sede interregionale o regionale dell'Agenzia delle Dogane sia nel capologo di Regione, dice Mostaccioli, ma il ricorso al TAR del comune di Reggio Calabria ha rimesso in discussione tutto, sebbene l'ordine delle cose sia stato sovvertito contro Catanzaro anche prima della decisione della magistratura amministrativa che comunque ha dato ragione al Reggio Calabria. Quale interpretazione dare a questa triste vicenda? Che la deputazione calabrese in generale e quella catanzarese in particolare, conclude Mostaccioli, non conoscere le dinamiche che governano i processi delle stanze nazionali, dove si prendono le decisioni e che non ha una visione strategica in grado di tolerare le prerogative dei calabresi.